Cominciamo a parlare a questo punto di quello che è la tassonomia di Flynn. In particolare ci riferiremo a questa prima sezione, quindi SISD e SIMD, con particolare focus su SIMD, cercando di capire cosa si intende appunto per SIMD. Qui in questo schema della tassonomia di Flynn abbiamo da una parte la sezione dati e dalla parte la sezione istruzioni. Abbiamo parlato in precedenza di parallelismo di task, parallelismo di dati. Abbiamo parlato appunto del fatto che c'è un instruction level parallelism nella classica architettura RISC in pipeline. Qui diciamo abbiamo una schematizzazione di tutto, cioè in un'architettura in cui ho un single data, single instruction, quello che succede è questo. Cioè qui c'è un instruction pool, qui c'è un data pool e qui c'è semplicemente che data pool e instruction pool si incontrano in questa processing unit. Quindi each PU, processing unit, does not necessarily correspond to a processor, just some functional unit that can perform processing. Quindi è un'unità funzionale, quindi non necessariamente deve essere considerata come un processore, un'unità funzionale che realizza in questo caso l'instruction su quel dato. Quindi svolge, esegue il task che è stato programmato su quel dato. Single data, single instruction. Quindi questo diciamo è il caso più semplice in assoluto. Il caso che ci interessa è in questo del SIMD, in questo caso, cioè ho una single instruction ma un multiple data. Quindi in questo caso quello che succede è che il dato viene, come dire, frammentato ed inviato in diversi processing unit e ognuna di queste processing unit esegue quindi l'istruzione su questi pezzettini di dato. Quindi single instruction, multiple data. E appunto l'acronimo è SIMD. Ora, con SIMD quindi intendiamo appunto single instruction, multiple data, is a class of parallel computers in Flynn taxonomy. Quindi è una classe di computer paralleli nella taxonomia di Flynn. And it describes computers with multiple processing elements that perform the same operation on multiple data points simultaneously. Quindi la caratteristica importante di questo tipo di architettura è il fatto che abbiamo computer with multiple processing elements, quindi diversi processing elements, queste functional unit che stanno qua, queste PU, che appunto eseguono la stessa operazione, same operation, on multiple data points simultaneously. Quindi ricevono appunto diversi elementi da questo data pool ed eseguono la stessa funzionalità su questi pezzettini di dati che arrivano. Questa è appunto l'architettura SIMD. Da notare che such machines exploit data level parallelism but not concurrency. Quindi stiamo parlando di data level parallelism, quindi un parallelismo sui dati, but not concurrency. Quindi non c'è concorrenza in questo caso. There are simultaneous parallel computations but only a single process instruction at a given moment. Quindi c'è solamente un single process, una single instruction, che viene svolta nell'istante, che è appunto questa single instruction che sta da questa parte. Bene, a questo punto possiamo tornare indietro, perché quando precedentemente avevamo parlato di complex instruction e simple instruction, nelle complex instructions abbiamo parlato di SIMD instructions appunto. Quindi capiamo che le SIMD instructions sono una tipologia di complex instructions e quindi appunto, come è indicato qui in questa sezione, a single instruction performing an operation on many homogenous values in parallel, possibly in dedicated SIMD registers. Quindi esattamente quello che abbiamo descritto finora. Vediamo inoltre che appunto le complex instructions sono più comuni in architetture CISC, tuttavia appunto anche nell'architettura RISC, la maggior parte dell'architettura RISC implementano delle SIMD instructions. Qui possiamo vedere ad esempio come top CPU manufacturers, come ad esempio Intel o AMD usano delle SIMD instructions all'interno dei loro prodotti e sono state sviluppate nel tempo diverse implementazioni SIMD sotto determinati trade names such as MMX, 3D now, Altevec, SSI, Neon, AVX eccetera eccetera. Quindi i top player, top manufacturers, lavorano con SIMD instructions. Quindi andando avanti e osservando queste SIMD machines, cominciamo a capire che in realtà queste macchine sono caratterizzate quindi dal fatto di avere un componente di controllo che può essere assimilato al concetto di CPU nei normali personal computer, quindi questa parte qua, e diversi processing elements che eseguono appunto le computazioni. Quindi questi processing elements possono essere visti in questo modo come dei componenti che eseguono le computazioni che vengono quindi splittate qui all'interno. Le istruzioni vengono svolte dal componente di controllo e in parte dai processing elements della macchina. Le macchine della famiglia SIMD vengono anche dette array processors e l'idea appunto del perché siano array processors è proprio derivante dal fatto che abbiamo n di questi componenti come se fossero degli elementi di un array. Le macchine SIMD possono avere due tipologie di approccio, quindi MPP, Massively Paralleled Processors, oppure l'approccio CPU. Quindi nel primo caso il numero dei componenti PE varia da 1024 a 65, 1536, quindi da 1K a 64K. E i processing elements devono essere collegati con un'opportuna rete di interconnessione, quindi un inter-PE network. Mettere invece l'approccio CPU quando si incontrano pochi processing elements, di solito 8, all'interno della CPU stesso. Per far questo bisogna ampliare quindi l'instruction set architecture con le istruzioni dedicate a dare direttive simultanee ai processing elements della CPU. Quindi tutte queste macchine comunque sono caratterizzate dal fatto che quando arriva una direttiva questa può essere svolta dagli n esecutori, che in questo caso sono i processing elements, simultaneamente, ma su insieme di dati diversi. E lo speedup quindi è compreso tra 1 ed n, dove n sono appunto il numero di questi processing elements. Grazie mille. Grazie.